a sentire e a dar voce a tutti quanti. Vi sentite un po' tristi oggi? Ecco, allora sappiate che è abbastanza normale, secondo alcuni, perché è il Blue Monday. Milo? Mi sto intristendo anch'io, Monica. Guardate un po'? Abbastanza triste. Comunque adesso vi devo dire anche una cosa, però attenzione. In teoria sì, il Blue Monday è un po' la giornata più triste, però non c'è molto di scientifico. Quindi in qualche maniera, quello di cui vi stiamo parlando, è che da diversi anni si è inserita, insomma, questa giornata, eccolo qua, il Blue Monday. Qui siamo sulla pagina della stampa, il giorno più triste dell'anno, fra matematica e gioco. Sottolinea un po' le difficoltate rientro. Vi devo dire subito che andiamo a vedere innanzitutto da dove viene questo studio, perché a calcolare questa data è stato quasi per scresso, nei primi anni del 2000, Cliff Arnold, che è uno psicologo dell'Università di Cardiff, che tramite questa complicata equazione, considerando diverse variabili, la variabile qua ve la sottolineo subito, una su tutte è il rientro dalle feste natalizie e soprattutto ricordiamoci che, insomma, diverse carte di credito, quando è il 15 del mese successivo, poi ci riportano il conto salato, magari di regali in cui abbiamo esagerato. Quindi si sommano una serie sicuramente di condizioni. Vi dico, vogliamo sapere qual è il giorno invece più felice, secondo lo stesso studio, beh, dobbiamo aspettare il sottolineo d'estate, ovvero tra il 21 e il 24 giugno. Insomma, c'è sicuramente tanto da aspettare. Però, come vi dicevo, addirittura molti parlano in qualche maniera di una sorta di fake news, nel senso che il Blue Monday, sì, si scherza, ovviamente può essere in effetti una giornata un po' triste, però c'è poco di scientifico. Questo è un richiamo che in qualche maniera è stato fatto da diversi organi di stampa internazionali, per esempio come il Guardian, che vedete ogni anno si interroga proprio effettivamente se questo Blue Monday sia così triste oppure no. Io non mi sento particolarmente triste, ma andiamo da Monica, a te. Milo, allora, che sia il più triste o no dell'anno, sicuramente è un lunedì. E insomma, Marina Usnaghi, Master Coach, è qui con noi. E insomma, ogni lunedì porta con sé un pochino una lacrima, perché si esce dal fine settimana, magari poi dopo si deve riprendere un treno e raggiungere il luogo di lavoro, magari lasciare la famiglia. E sicuramente questo implica una lacrimuccia triste. Però c'è un decalogo che ha stilato per vincerla questa tristezza, soprattutto sul luogo di lavoro, in cui la tristezza non ci può essere. Sì. Non ci dovrebbe essere insomma. Questa è una bellissima frase. In teoria la tristezza sarebbe meglio non ci fosse. Poi è una realtà, soprattutto guardando dei servizi come quello che abbiamo visto prima dei migranti. È una realtà che noi ci parametriamo con ciò che c'è dentro la nostra realtà. Quindi se abbiamo una situazione di sopravvivenza molto forte, e prima abbiamo parlato anche di carte di credito, il fatto di avere una carta di credito probabilmente è una fortuna. Nello stesso tempo può essere una sfortuna se hai amministrato male le tue finanze o se hai perso il lavoro. Quindi in teoria la tristezza è data anche da quello che ti circonda, da quello con cui ti relazioni. Se non c'è, sei più forte, sei più energetico, sei più contento di fare le cose, rendi di più. Questo è anche provato sul lavoro. Però ecco, ci sono dei modi per, diciamo, vedere il bicchiere mezzo pieno? Qualsiasi cosa poi ci capiti? Mi sembra che lei insegni proprio questo, no? Sì, io insegno proprio questo. Allora ci faccia un'iniezione di fiducia. Diamo dei consigli a casa su come affrontare ogni lunedì e magari anche ogni venerdì. Sì. Per arrivare positivi dal lunedì al venerdì. Sì, magari anche ogni giorno. Ecco. Allora il primo consiglio che sembra non facile da seguire è non rimuginare. Noi rimuginiamo, ci fissiamo, continuiamo a pensare alla stessa cosa. Distrarsi. Quindi concentrarsi via via su quello che stai facendo, cercando di non rimuginare, di non creare la fissità del pensiero. Secondo consiglio, anche questo sembra molto difficile, ridere, sorridere. Ad esempio... Ma lì dentro i fatti riesce benissimo, l'avrà visto. Sì, è vero, siete molto bravi in questo. Ad esempio, l'abitudine di mangiare davanti al computer. Abbiamo obiettivi basici. Ok, non si mangia davanti al computer. Voglio fare colazione, faccio colazione con calma. Oddio, dirlo a una madre con dei figli che devi portarli a scuola. Non è facile, ma faccio colazione, mangio e in quel momento stacco la spina. Ad esempio, nel weekend, noi la stacchiamo la spina? Noi no. Devi andare a fare la spesa, devi curarti delle cose. C'è un momento di stacco. Quindi smetti di pensare al lavoro e cominci a pensare alle incombenze personali. Ma tante volte anche andare dal parrucchiere diventa un problema. Quindi veramente darsi dei compiti in cui io decido in quel momento di staccare la spina. mangio, mangio, mi siedo, vado in un posto che mi piace e per un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora smetto di pensare al lavoro. Stacco il cellulare, magari metto modalità aereo e non mi raggiunge nessuno. Io a volte lo faccio, lo devo dire, però non è facile perché poi quando lo riaccendi... Non è facile perché noi stessi, a parte che, ecco anche qui, ci sono delle convinzioni. La convinzione è che se io non sono reperibile capiterà qualche cosa di terribile e io non c'ero. Quindi abbiamo questa... il cellulare ha creato una nostra iperpresenza, un obbligo che tante volte ti toglie il fiato. Stacchiamo perché saremo più produttivi, magari, se riusciamo a prendere anche la nostra piccola pausa. Noi ce la prendiamo la pausa. Marina Osnaghi, grazie per essere stata con noi e per averci dato questi consigli. Grazie. Non c'entra il tempo per un caffè? Sì, dai, forse sì, ce la facciamo a prendere un caffè prima di ritrovarci qui alle 11. Ci sarà Milo. Torneremo ovviamente a parlare anche del tema dei... Grazie.